Automobilista in stato di ebrezza denunciato a piede libero dopo aver causato un incidente stradale a Montecorvino Pugliano. Il sinistro stradale è accaduto l'altra notte tra Via Verdi e Via Vespucci e quattro persone sono rimaste ferite. Una Seat Leon è stata tamponata violentemente da una Mercedes GLA, con a bordo quattro persone, tutte rimaste ferite, nel condotta da un uomo che è stato sottoposto all'alcol test dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Battipaglia. Il tasso alcolemico è risultato al di sopra di quello consentito e quindi è stato denunciato a piede libero. I militari gli hanno ritirato immediatamente la patente di guida. I quattro feriti sono stati soccorsi dal personale del 118 e sono stati trasportati all'ospedale di Salerno. L'automobilista in stato di abbrezza ha riportato ferite e contusioni guaribili in 30 giorni.